Ben ritornati a Good Morning Milano, ben ritornati in nostra compagnia 331-7853-555 è il nostro numero di Whatsapp ma soprattutto inizia la parte di trasmissione dedicata all'ospite, giusto Lorenzo? Seconda ora, ora degli ospiti Oggi ai nostri microfoni abbiamo Federico Delprete di Lega Ambiente Lombardia responsabile mobilità e spazio pubblico Buongiorno Esperto di mobilità sostenibile Buongiorno Sì, di mobilità, di mobilità sostenibile Cerchiamo, vediamo di capirci qualcosa Una persona coerente, posso dirlo? Perché ho visto che è venuto in bicicletta Quindi, giustamente Non è così scontato Predicare bene e razionare male è all'ordine del giorno Invece devo dire che poi è arrivato, ho visto Nonostante il friccchio, ma anzi forse è anche bello con questo frescolino Ah beh, certo, energizza Sicuramente sì Io la settimana scorsa ho smesso invece Però le sei metodo del mattino Se avessi fatto la stessa cosa in automobile si era arrivato qui molto più stressato Sicuramente con pensieri più confusi Allora Iniziamo con Federico Del Prete Per fare un po' il punto Chiacchierare un po', commentare Qualche provvedimento Come si sta comportando il comune di Milano In tema appunto alla mobilità In particolare a quella sostenibile Visto che comunque insieme alla sicurezza Sono i grandi temi Ma anche come si comportano i milanesi Giustamente, no? Anche noi parte in causa, credo, no? Giusto Federico? Beh sì Quello lì diciamo che è il punto fondamentale Poi Diciamocelo molto chiaramente Cioè l'amministrazione fa il suo pezzo O perlomeno diciamo ci prova E poi però sono i cittadini che devono seguire E noi in questo momento abbiamo un grosso problema A proposito di mobilità Molto semplicemente A far tenere spento Il motore delle automobili Da fermi Non c'è lo start and stop Ecco sì Lasciamo perdere anche lo start and stop Quindi diciamo che Il pezzo che ci devono mettere I cittadini In generale È un po' scarso al momento Perché poi È evidente che Se vuoi il cambiamento Come diceva Gandhi Devi essere il cambiamento Poi c'è qualcuno che te lo può Volendo anche imporre dall'alto Però la cosa fondamentale È che uno poi deve comunque farla Quella cosa lì E quindi se per esempio L'indicazione è Equilibrare tutte le modalità di spostamento Qual è la mobilità sostenibile Io sono 15 anni che faccio questo lavoro Ancora non l'ho capito francamente Perché da una parte ti dicono Tutte autoelettriche Dall'altra ti dicono Tutte biciclette Dall'altra ti dicono C'è la smart city Con l'app per trovare il parcheggio Però Diciamo che Nessuna di queste cose Se non sai neanche tu Noi alziamo le mani Però diciamo L'idea che mi sono fatto È che la mobilità sostenibile È quando in una città Si usano tutte le modalità di trasporto In un loro virtuoso equilibrio Per esempio In questo momento A Milano Siamo abbastanza equilibrati Cioè abbiamo Non so Un 38% di trasporto collettivo Un 36% di automobili private E poi però Tutta la parte Diciamo di ciclabilità È ancora inchiodata Un misero 7% Siamo fermi Diciamo Un pochino Sotto le due cifre Che ci meriteremmo Tutti quanti E quindi Una ciclabilità diffusa In una città Come Milano È un po' Diciamo fondamentale Per affrontare Le sfide Non solo Della transizione ecologica Ma anche Come dicevo prima Di stare bene Arrivare Al lavoro Meno stressati Sembra che uno Per andare al lavoro Debbe per forza Correre in automobile Beh insomma Sì D'accordo Non è esattamente così E da quel punto di vista Secondo te Il comune Non sta facendo abbastanza O semplicemente C'è bisogno Di una graduale Trasformazione Della città Ma la graduale Trasformazione Della città A nostro parere Il comune La sta anche facendo Ma all'origine Ci vogliono le leggi Perché siamo In una società civile La società civile Funziona con le leggi Se noi abbiamo Un codice della strada Che è ancora fermo Al boom economico Alla motorizzazione Di massa Non da lì Non ci schiodiamo Il punto fondamentale È questo Quindi in questo momento Direi che più che il comune di Milano Guardando Alle istituzioni Il tema forte È la riforma Del codice della strada Che vorrebbe fare Il ministro Salvini E che francamente Va un po' In tutta altra direzione Di una mobilità Davvero sostenibile Insomma Una mobilità davvero sostenibile Spinge anche A livello di investimenti Investimenti importanti Il trasporto collettivo Prima di tutto Perché il futuro è quello E poi dopo Naturalmente Nelle città È la ciclabilità Che ci si creda O no Ma questo è il futuro Perché noi siamo abituati A pensare Alle biciclette Come quelle cose rosa Con scritto Sopra Olanda Con il cestino Con i fiori Però nel frattempo In realtà La tecnologia Ci ha dato Delle spinte Fortissime A essere alternativa All'automobile privata Esistono Delle biciclette Non solo quelle A pedalata assistita Avrete capito Che volevo andare lì Ma anche per esempio Con più ruote Perché per fortuna La legge Non dà Delle definizioni Tipologiche Della bicicletta Cioè non dice La bicicletta Deve essere così Ma dà delle definizioni Solo dimensionali Cioè per la legge La bicicletta È una roba Che è lunga 3 metri e 50 È alta 2 metri e 20 Ed è larga 1 metro e 20 In mezzo Ci può stare Di tutto Un numero Di ruote A piacere Un numero di persone A piacere Basta che vada A pedali O a pedalata assistita E tra l'altro Ieri abbiamo letto Che la Lombardia Se non sbaglio È prima In tutte le classifiche Di produzione E vendita Di Biciclette E-bike Sì Proprio un segnale Noi abbiamo un'industria Che morde il freno Abbiamo un'economia Che morde il freno Cioè noi potremmo avere Dei benefici Importanti Da una trasformazione Come questa Ma perché? Perché il 77,6 Degli spostamenti Su scala nazionale È inferiore Ai 10 km Ah Quindi il 77% Delle persone Si muove per meno 10 km E nel 68% Dei casi Praticamente Usa un'automobile Ah ottimo Considerando che poi Il 60% Di questo 77,6 È inferiore Ai 2 km Ah E la percentuale Però di utilizzo Di un'automobile privata Rimane lo stesso Anche nell'arco Di 2 km È proprio questo Siamo un po' alla follia Posso dirlo O forse Non ci rendiamo conto Davvero che La città poi Ieri parlavo con Simone Lunghi Che sicuramente lo conosci Che lui ha dato Una buona definizione Di Milano Ha detto Milano È la più piccola Metropoli al mondo Ma siamo una metropole Comunque Effettivamente Siamo piccolini Forse Muoversi anche a piedi Mi verrebbe da dire È pratico In certe zone Della città Però siamo Proiettati verso Il voler essere La grande metropoli Allora magari Vogliamo emulare Eh ma abbiamo Un concetto Un po' arretrato Di grande metropoli Quello lì Del 900 No Per esempio Non so Se vi ricordate Metropolis Un film Degli anni 20 Di Fritz Lang Ecco Siamo andati Un po' avanti Insomma Non siamo più Da quelle parti lì Andiamo avanti Con un po' di musica Poi ritorniamo qui Adesso una piccolissima pausa Due consigli per gli acquisti Veloci E poi torniamo sempre qui Con il nostro ospite A parlare appunto Di mobilità sostenibile E di tutto quello Che può migliorare Anche in un certo senso Poi no Speriamo La nostra vita Quotidiana Qui Nella nostra città A fra poco Andiamo avanti invece Con il nostro ospite Federico Del Prete Che insomma Ci sta raccontando Un po' come La chiacchierata è andata avanti Eh sì Fuori onda E come sempre I fuori onda Sono più interessanti Di quello che diciamo In onda Adesso dobbiamo cercare Di sistemare Questa situazione No Allora Parliamo appunto Comunque del Allora Da una parte Dicevo Federico Anche un po' l'incoerenza Per la volta che c'è Nella Io dico Amministrazione comunale Ma in realtà Non solo loro Un po' tutti Perché comunque Insomma Qui devi dare Un colpo alla botta Un colpo al cerchio Insomma È un po' difficile Riuscire a gestire Una situazione Come Soprattutto Una città Come quella di Milano Dove Chiunque Diciamo Tira un po' Dalla sua parte No Che gli interessi Sono tanti Come possiamo Pensare A uno spazio Per tutto Appunto Interessante Che tu Veicoli diversi Spazi Eh Veicoli diversi Spazi Adibiti a quei veicoli Giusto Spazio pubblico Poi per te È un tema Importante Immagino Beh sì Come legambiente L'abbiamo voluto Legare Appunto Alla mobilità Perché lì È quello Lo scenario Dove si gioca La transizione Non solo ecologica Ma anche energetica Perché la mobilità Ovviamente Ha un grosso impatto Sulle energie Che impieghiamo Quindi È nello spazio Che si gioca Questa transizione Lì A proposito Dell'amministrazione Allora Bisogna avere Una visione chiara No Le città Devono dire Da che parte Vogliono stare Milano lo dice Poi però Come tu Hai introdotto Effettivamente Ci sono dei punti Un po' Di contraddizione E di confusione Insomma Cioè Se noi Ad esempio A fronte Della volontà Di un consiglio comunale Con Diciamo Quasi 40 Firmatari Di istituire Una città A 30 km orari Poi Non lo facciamo E anzi Il sindaco Ha più volte Dichiarato Contro la volontà Del suo stesso Consiglio comunale E' chiaro Che quello lì A fronte Di un'immagine Green E sostenibile Di una città Rema un po' Contro Ma forse perché Federico Ho anche raccontato male Perché non so come dire Se mi dici a me Fai la città a 30 Io ti dico Ma te sei matto No? Esatto Poi mi dici Ma guarda che tu vai a 20 Perché in realtà Passi la metà della giornata A 18 Ecco a 18 Pensa a te Allora dico Quando ho visto Per prima volta Su Via Novara Il bollone 30 all'ora per terra Ma io volevo Andarli a cancellagli Con la mia amice Siete matti Poi però ti accorgi Che appunto Più delle volte Vai Quando ti va bene Vai a 35 Soprattutto se il bollone Te lo mettono Su una carreggiata Di 20 metri Quindi tu dici Ma scusa E non c'è magari Nella vietta Che invece entra nel quartiere Ecco esatto Quindi Sì c'è un problema Anche magari Di progettazione Nonostante i tecnici Del comune di Milano Siano abbastanza avanzati Come media nazionale Anzi tra i più avanzati Sicuramente Perché hanno avuto A che fare Con delle trasformazioni Normative Anche importanti Ma insomma Nessuno la sa raccontare bene Questa benedetta Città 30 Perché effettivamente Trenta è un divieto E a noi i divieti Non piacciono Chi si occupa di comunicazione Non puoi vendere un divieto Come lo vendi un divieto? Lo vendi insomma Però Nessuno sta Invece vendendo Cosa permette La città 30 La città 30 È un gigantesco permesso Vendiamolo così Perché se da una parte Tra virgolette Ti fa andare più piano E sappiamo perché È ovvio che con questo livello Di motorizzazione Tu piano ci vai per forza Stai bloccato nel traffico Come uno stupido La maggior parte Della tua vita Mobilistica Dall'altra parte Invece permette Ad esempio A tutte le età Le abilità E i generi Di stare sicuri Nello spazio pubblico Questo quindi Non è un permesso da poco Cioè Non sono cosette Che diciamo Uno trascurerebbe No? Cioè I bambini possono Di nuovo Giocare per strada Come la mia generazione Per esempio I anziani Non hanno paura Di essere investiti E quindi possono stare Di più con i bambini Le donne hanno indipendenza E autonomia Abbiamo visto Quante vittime femminili Ci sono state In questi ultimi mesi Lo sappiamo bene Che cosa vuol dire Quella cosa lì È una domanda Di autonomia E di indipendenza Che non è stata Tutelata Nella mobilità Ma anche Diciamo come Cogliere opportunità Di lavoro Di studio Tutte quelle persone Tutte giovani Con figli piccoli Noi dobbiamo considerare Queste cose Quindi Quando Stiamo contro Sui social Nelle chiacchiere Da bar A un provvedimento Così importante Per tutte le città Mica solo per Milano Come città Trenta È forse un pensierino A marcia indietro Dovremmo un po' farlo La narrazione Io come dico sempre La narrazione Su queste Su queste vicende Che sono comuni A tutti Cioè Tutti abbiamo Comunque A cuore Siamo sensibili Su questi temi La narrazione Poi ti porta A prendere Una parte Piuttosto che L'altra E questo È il grande rischio Perché poi alla fine Non si va avanti Sì sì Sicuramente Pensa che anche Obama Si è espresso Nei scorsi giorni Proprio su questo tema Sul fatto che dobbiamo Smetterla Di schierarci come tifoserie Ma schierarci invece Come collaborazione Alle idee Perché effettivamente L'idea di Volere o no La città Trenta Può essere Che sono favorevole O contrario Ma l'idea di avere Una città Dove posso camminare Sereno sul marciapiede E non farmi tirare sotto Dalla primo camion Che passa Insomma Quello siamo tutti d'accordo Quindi Quello potrebbe essere Il punto di partenza E raccontare poi E cercare Di arrivare a delle soluzioni Insieme Magari Si arriva Si fa soltanto insieme Il cambiamento Non si fa da soli Questo è evidente Ma penso anche Recentemente Ai vari titoli Sulle macchine Non entreranno Più in centro Le macchine Che poi non era Neanche vero No Sono tre vie Sono tre vie Però la narrazione È quella Uno lo vede Ed è chiaro Che poi è indisposto Mentre è in fila Sulla circomandazione Ovvio Circomandazione Che magari potrebbe Un giorno diventare Il confine dell'area C Invece magari Potrebbe diventare Una foresta lineare Cioè Abituiamoci A pensare In grande Bella idea Sì Ok Allora Questo è già Ovviamente successo Ci sono città Dove i cavalcavia Le tangenziali Sono state rimosse Di peso Per far strada A spazi verdi E fiumi Cioè Non è fantascienza È già Successo In molte città Sì Sta girando in questi giorni Mi penso cos'è Utrecht Se non mi ricordo male Che ha tolto una tangenziali Ci ha fatto un canale Esatto Sta girando in questi giorni Una foto Quindi non è che Le nostre città Se noi le vediamo così Devono rimanere per forza così Cioè Si comincia appunto Con dei provvedimenti Normativi Perché ripeto Siamo in una società civile Non in un far west E con quello poi Si costruisce un futuro Diverso Ma diverso per tutti però Non soltanto per alcuni Perché poi queste cose Uno dice Eh beh sono i ciclisti Ma i ciclisti chi sono? Domani potresti essere Anche tu il ciclista Io sono Esatto Io sono un ciclista Ma io non mi considero Un ciclista Sì faccio 20 km al giorno In bicicletta Vivo in Amendola Il nostro ufficio è in Turro Se non ho altri appuntamenti Sono 20 E Proprio in Amendola Dove c'è la peggior ciclabile Della storia di Milano Una diattrima pazzesca Sulla ciclabile Diciamo una ciclabile Veramente un po' sfortunata E anche forse Un po' sovradimensionata Beh c'è a dire però Insomma Antelitter Però E forse la prima ciclabile Cittadina della città Tra le prime Sì Tra le prime Non erano ancora proprio Esperti Adesso stanno completando Il tratto Amendola Lotto Che è Stato fermo Poi appunto L'azione amministrativa È complicatissima Guardate Avere a che fare Io sono anche Nella consulta Cittadina Per la mobilità Attiva E l'accessibilità È un organo Consultivo Del comune di Milano E capiamo Quanto è complesso Per un'amministrazione Fare Il muretto Lì Oppure L'asfaltino Qua Cioè È complicativa Una cosa complicatissima Federico E poi tu mi dice Di pensare in grande Pensare Sognare in grande Dallo smontare Una tangenziale Smontare un punto E poi veramente Non si riesce proprio A fare il muretto Hai ragione Come facciamo Hai ragione Non è che non si riesca Devo entrare con un bulldog Ma con dei tempi biblici Che ovviamente Non aiutano Diciamo Perché noi abbiamo Un sistema Amministrativo Un po' farraginoso Perché a monte Abbiamo poco senso civico E quindi Diciamo Fatta la legge Trovato l'inganno Le persone magari Vogliono pagare meno tasse O non vogliono pagarle per niente Vogliono fare i lavori In un certo modo Invece che come legge prevede E quindi Siamo un paese Un po' complesso Ma diciamo Che poi In una realtà globalizzata Tendiamo forse A migliorare Anche non solo A peggiorare Da questo punto di vista Ci dobbiamo mettere tutti A un grosso impegno Mi piace la positività Di Federico Mi dà speranza Faccio una piccola provocazione Allora la soluzione Potrebbe essere Disegnare la ciclabile Di notte Sul Ponte della Chisolfa Beh Quella è una cosa Che esiste In tutte le città del mondo Gli attivisti Fanno Questo genere di lavoro Sono dei ciclopop Si chiamavano Una volta E cioè Quelle dove Si danno delle indicazioni Molto precise All'amministrazione Su dove Una ciclabile Contestata O meno Dovrebbe essere Ovviamente È un comportamento Insomma Discutibile Per certi versi Anche perché Impatta sulla sicurezza Delle persone Perché ovviamente Se tu fai Segnaletica Abusiva Quello lì Impatta Sulla sicurezza Delle persone Beh Però dobbiamo Chiederci se Impatti Magari positivamente Anche sul dibattito Pubblico Per esempio È lì Il Ponte della Chisolfa È un nervo scoperto Il Comune Ci ha messo Diversi soldini E quindi Primo o poi Lo risolveremo Ma Nel frattempo Cosa facciamo? Come le lasciamo Le persone Su quel ponte? Lì ci sono Delle scuole Ci sono dei papà Che portano i bambini In bicicletta E quindi Dobbiamo Nel frattempo Garantire La sicurezza Con Per esempio Dal mio punto di vista Dal nostro punto di vista Anche con gli strumenti Che l'amministrazione Già ha Io sono ente Proprietario Delle strade E per motivi Contingibili E urgenti Ad esempio Il rischio Che le persone Corrono lì Ok Io posso Fare Variazioni Di viabilità E circolazione Quindi segnaletica Da cantiere Cartelli Attenzione Andate piano Restrizione Della carreggiata Poi lì c'è il TPL Sappiamo C'è la 90 Che passa E quindi Ci sono Diciamo Sovrastrutture Di problemi Che vanno avanti Nel frattempo Bisogna comunque Garantire Una sicurezza Alle persone Quindi Ghisolfa Nervo scoperto Di tutta Questa C'è la 90 91 Che tagliano A metà Zella carreggiata Perché si passano Dalla Per consiglio preferenziale Sul lato destro Invece Della carreggiata Andiamo con un po' di musica Poi torniamo sempre qui Con il nostro ospite Cristo Radio Good morning Milano Moneskin The loneliness Ma noi non siamo soli Invece Noi non siamo soli Io so Diciamo a chi A Milano Cerca di cambiare le cose O cerca Di vivere la città In una maniera Diversa Da come viene dipinta La modalità normale Tra virgolette In cui dovremmo vivere Perché poi in realtà Io credo che Milano La cosa più bella di Milano Sia che ognuno Se la può vivere un po' Come cavolo gli pare Questa città Ci dà la possibilità Di vivercela Davvero un po' Come cavolo ci pare Per fortuna Ovviamente Nel rispetto Dell'altrui E delle regole Ovviamente Insomma A Milano si vede Qualcosa di strano Però per fortuna Rimane Rimane solo La stranezza Prego Lorenzo So che appunto Stavate chiacchierando Anche fuori onda Stavamo parlando Della Mille Mila Bici Grande iniziativa Prima edizione Di questa iniziativa Prima edizione Ma in realtà Milano ha sempre avuto Delle grandi pedalate cittadine Penso a Bici in festa Di primavera di FIA Bella Milano Che pedala di turbo lento Ciclo Pride Day Ma poi cos'è successo È successo Faccello cattivo Non ha nominato Critical Mass Come mai Federico Beh perché Critical Mass Non è una grande Pedala della cittadina Se non è la Ciemona Cioè la Ciemona Ricordiamo Critical Mass Milano è l'unica Al mondo Ad essere settimanale Sì E gli altri Sono una volta al mese Piazza Mercanti Invece gli altri Di solito Sono una volta al mese E questo mi fa capire Quanto bisogno Poi ci sia Di essere il traffico Come dice Critical Mass Ah giusto Ecco allora Mille Mila Bici Il problema Delle grandi pedalate cittadine Che costano Costano un sacco di soldi Però lì dov'è il coinvolgimento Del costano Perché c'è la polizia locale L'AMSA Blablabla L'ATM Lì dov'è il coinvolgimento Dell'amministrazione Investe così tanto In ciclabilità E poi non ha un evento Dedicato Alla ciclabilità Ogni anno Un appuntamento fisso Del comune Del comune di Milano Noi di Lega Ambiente Ci siamo detti questa cosa Non funziona C'era una Milano Bike City Una delle tante city Delle tante week Ma ha fatto solo due edizioni Perché poi i fondi Sono stati Diciamo Tolti Sono stati messi Sull'app Yes Milano Non lo so E quindi Abbiamo chiesto A quattro assessorati Di aiutarci un po' A risolvere Questo problemino Insomma Questa evidente Contraddizione E diciamo Poi ci siamo riusciti E quindi adesso Stiamo addirittura Pensando di fare Due appuntamenti L'anno Perché Quell'immagine Iconica Del ponte della Chisolfa Cavalcavia Monteceneri Come vogliamo chiamare Un chilometro e 700 metri Di ciclisti Su un cavalcavia Normalmente Congestionato Di traffico motorizzato E ora lì Un'immagine È finita sulla copertina Del PGT Di Milano Il piano di governo Del territorio Quindi insomma Diciamo un po' Breccia L'abbiamo fatta Però noi dobbiamo fare Mille e mila bici Tutti i giorni Perché ripeto Una città così avanzata Così evoluta Così che dovrebbe essere Così attrattiva Avere questo livello Di motorizzazione Milano A 495 automobili Ogni mille abitanti Ma arriviamo Alla cifra spaventosa Di un'automobile Per abitante Quando poi Sappiamo No Le 800.000 automobili Che entrano ogni giorno Ed escono Come un respiro Omefitico Da questa città E fanno Fanno salire Questa percentuale Cioè In questo momento L'Italia È il paese Più motorizzato D'Europa Ma pensiamo al Giappone Come dicevi tu prima No? Raccontami un po' Della tua vacanza Dove poi dici Ma che razza di posto è Questo dove non puoi Parcheggiare da nessuna parte È un posto Fatto per le persone Non per le automobili Ed è un paese Che ha Un'elevatissima Industrializzazione A base automobilistica Quindi Dove sta il tema Dell'economia Il tema dell'economia Sta nel Non volere Le automobili Nelle città Su tutto il resto Sui territori Ci possiamo anche riflettere Se non bastasse Un trasporto collettivo Degno di questo nome Perché ripeto Il futuro è quello Però intanto Noi abbiamo bisogno Proprio di demotorizzazione 672 automobili Ogni mille abitanti In Italia Sono troppe Non ce n'è 495 A Milano Sono troppe Dobbiamo arrivare a 300 E anche con il nuovo pacchetto Di provvedimenti Che si vanno ad aggiungere A quelli Già in vigore Di Area B Comunque si legge Che i numeri Non si abbassano Più di tanto Ma certo Perché se Area B È un collaborato Perché è piena di deroghe È evidente Che ha un'efficacia Molto inferiore Alle aspettative E agli investimenti Area B Si fa Indovinate un po' dove Si fa sul suolo Non si fa Con gli ingressi Cioè si dice Tu non puoi Parcheggiare La tua automobile Se non ha Determinate Categorie Ecologiche Ma non se lo inventa La lega ambiente Ci sono intere città In Europa Che funzionano così Tu devi Giustificare Ad Amsterdam Perché vorresti Mai parcheggiare Per strada Cioè un'automobile Vorrei parcheggiare Per strada E loro ti chiedono Perché Qual è la motivazione Che ci dai Quando gliela dai Sono dai due Ai quattro anni Di lista di attesa Ah però Quando è finita La lista di attesa Paghi Da residente Quindi questa cosa qua Ancora da noi Il fatto che Il suolo Lo spazio pubblico Sia un bene comune Non è ancora passata Noi siamo abituati Che fuori la porta di casa Non del portone Già proprio quella di casa Ok E terra di nessuno Dove si può fare Quello che si vuole Sempre e comunque Beh Questa cosa Dobbiamo un po' Recuperarla Perché altrimenti Non andiamo avanti Ragazzi Eh beh Eh sì 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 Allora Siamo arrivati alla fine Però Siamo arrivati alla fine Dobbiamo ringraziare il nostro ospite Ringraziamo Federico Ma grazie a voi Per essere stato con noi Abbiamo chiacchierato tanto E chiacchierato a piena di spunti e riflessioni È bene sì Grazie mille allora Federico Spero di rivirti qua ospite Perché i temi sono tanti E caldi E interessanti Soprattutto quando poi c'è qualcuno Che te li spiega così bene Come hai fatto tu Grazie mille davvero Federico Volentieri Grazie a tutti Ho Grazie a tutti.